ciao a tutti amici e amiche eccoci qui a parlare della quarta giornata della serie b femminile dopo aver parlato della quarta giornata della serie a femminile ebay che dire una serie b che da praticamente già tante e tanti tanti già una bella spaccatura in classifica se vogliamo dire tutta intanto sono stati segnati 27 gol 4 vittorie esterne tanto per dire e non c'è ancora stato un 0 a 0 in questo campionato una cosa veramente positiva andiamo a vedere praticamente come è stata questa giornata in particolare iniziamo dal big match quello di verona tra chievo e ternana ha vinto la ternana come da pronostico ternana impressionante 18 gol segnati solo uno subito non ha fatto la manita però ha fatto un risultato veramente netto dopo un equilibrato primo tempo veramente combattuto anche da parte anche del chievo la ternana ha praticamente steso le veronesi nella ripresa iniziando dal rigore di vigliucci ha segnato proprio per un calcio di rigore un po molto molto generoso su fallo di pirone che non ha segnato ma è stata protagonista bellissimo veramente capolavoro il gol di camilla labate destro da posizione impossibile ha fatto partire un testo impossibile per soggio sul sette sul secondo palo di soggio veramente imparabile questo gol bellissimo veramente da chapeau un golasso come direbbe giose altafini nel momento proprio migliore anche del chievo il terzo gol invece è stato nel recupero con gonzales rodriguez veramente bene anche questo un taglio perfetto sul secondo palo nulla da fare anche qua per soggio praticamente dopo è stato fischiato c'è stato il triplice fischio finale quindi 3 a 0 della ternana tutto nel secondo tempo al 60 al 62esimo vigliucci all 83esimo labate e al 90 più 4 gonzales rodriguez grande partita della ternana che rimane sulla scia della lazio perché la lazio vince all inglese 2 a 0 praticamente contro il bologna decide la doppietta di maraca al 25esimo e al 27esimo minuto succede tutto nel primo tempo l'impresa dell'altra veronese invece l'ellas verona in quel di cunio perché porta a casa tre punti importanti e si candida a lottare per la promozione almeno per secondo posto per andare al playoff con la penultima della pool della della pool salvezza quindi una partita passa quella di cunio praticamente perché va in vantaggio l'ellas con cappucci a quarto minuto poi raddoppia pasini al 22esimo al 22esimo al 28 barbassi accorcia le distanze per il freedom 32esimo rubina pinna per il pareggio naturalmente del freedom e al novantesimo ancora lei rossella sardu per il gol praticamente partita che dà i tre punti importanti all'ellas verona che è secondo in classifica e quindi veramente supera le cugine e si candida veramente a essere protagonista di questo campionato si rialza anche parma naturalmente 4 a 2 contro la res woman apre le le marcature canvoli al al quindicesimo al 22esimo pareggia ducerna mosca per la res ambrosi al 25esimo riporta in vantaggio il parma clemente al 26esimo pareggia ancora per per la res ma il parma la fa sua praticamente nel recupero finale perché al 90 al 90 più due silviani per il 32 e al 90 più 3 spiridoni du per il 4 a 2 quindi bella importante vittoria anche del parma che quindi si ritrova il successo dopo la sconfitta naturalmente di brescia a porto a proposito del brescia brescia che naturalmente come da pronostico sbanca ravenna per 3 a 1 partita a apre le marcature con pasquari al 22esimo raddoppia fracas al 40esimo al minuto 50 invece giorgio per l'1 a 2 del ravenna ma la chiude all'ottantesimo braida per il 3 a 1 del brescia ecco quindi vittoria anche del brescia seconda vittoria consecutiva per il pavia in quel di tavaniaco naturalmente tavaniaco è ormai in crisi veramente nera apre le marcature codeica l'undicesimo al al 56esimo il pareggio di nurzia per il tavaniaco e all'ottanta scusate 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 tolgo tutto perché il pavia la me la chiude praticamente nel primo tempo con codeca l'undicesimo e altrimenti ottesimo con langoni poi al nella ripresa e gol di nurzia al 56esimo ma non basta per tavaniaco che è purtroppo che ancora non vince in questo veramente campionato e si rialza anche praticamente il genoa che batte in conti che tra le muramiche si conferma imbattibile per ora battendo la reso al secondo stop consecutivo succede tutto nel primo tempo anche qua perché succede tutto nel recupero del primo tempo con le reti di bargi e metalli al 46 e al 47esimo praticamente nel recupero del primo tempo andiamo a vedere la classifica classifica che vede anche qua un braccio come nella serie a femminile naturalmente ma la prima è la ternana grazie alla differenza reti con 12 punti insieme alla lasso con 12 poi verona cesena parma brescia pavia con 9 punti quindi anche pavia si è rifatto praticamente dopo dopo aver preso cinque gol dal verona praticamente pavia è è una delle sorprese praticamente di questo di questo inizio di campionato poi genoa chievo sei punti con la natura meta non ho posto il chievo vero e il chievo women's bologna rest woman 4 adesso san marino 3 freedom tavagnaco ravenna uome zero punti questi sono le partite naturalmente anzi mi ero dimenticato la vittoria infatti scusate mi sono dimenticato infatti di parlare della vittoria del cesena contro il san marino le reti sono state segnate per tempo da jansen al 46esimo e all'ottanta doppietta di jansen al 40 e al 87esimo minuto quindi scusatemi biero sfuggita biero sfuggito cesena san marino va bene può capitare andiamo a vedere la quinta giornata ricordiamo si gioca domenica alle 15 domenica tutta le 15 naturalmente potrebbe esserci qualche anticipo sabato o qualche posticipo alla domenica ricordo che sarà l'ultima giornata poi ci sarà la pausa perché anche la serie b si ferma per la nation's league andiamo a leggere arezzo ternana bologna genoa brescia chievo e questa è una partita big match praticamente della della quinta giornata pavia freedom rest women lazio san marino parma tavaniaco cesena verona ravenna è veramente una bella partita ricordiamo possiamo dire che il big match della giornata è quello che si gioca praticamente a brescia tra brescia e chievo bene ho chiuso naturalmente anche con la serie b appuntamento naturalmente a venerdì per parlare naturalmente anticipo per anticipo per anticipo della serie a femminile sabato naturalmente per parlare della serie b facciamo i complimenti naturalmente all'under 17 che si è qualificata alla fase elite dell'europeo quindi nel 2024 si giocherà la fase elite dell'europeo che poi porta all'europeo in svezia che servirà anche come qualificazione al mondiale di categoria del 17 che si giocherà in repubblica domenicana quindi importante questo risultato per l'under 17 che ieri ha pareggiato una partita partite contro la scorsa una scorsa veramente rognosa che era andata aveva recuperato era andata in vantaggio ma meno male che dopo è arrivato anche pareggio comunque le azzurine sarebbero state quali scusate qualificate anche in caso di sconfitta bene appuntamento a venerdì dite la vostra su questa giornata di serie b femminile vi dico iscrivete sempre al gas e pregio alla pass bar io vi saluto e viva il calcio femminile una buona giornata